Tra i vitigni a bacca rossa che noi troviamo sul territorio, quindi sul Monte Somma, sul Vesulio, troviamo il piedi rosso. Il piedi rosso è un vitigno che noi lo troviamo non solo su questo territorio, ovvero il Monte Somma e il Vesulio, ma lo troviamo nei campi fregrei, lo troviamo sulla costiera, lo troviamo sulle isole. Naturalmente i vitigni si adattano a quello che è il territorio. Noi abbiamo delle caratteristiche sul Monte Somma che possono essere diverse nei campi fregrei, come possono essere diverse sulle isole. Naturalmente c'è un filo conduttore, che è quello del vitigno. Il vitigno piedi rosso cosa ha? Indipendentemente dal territorio, bellissimo colore rosso rubino, bellissimo naso fruttato, floreale e una bellissima mineralità, sapidità. Quindi può essere un vino visto a tutto pasto, data questa buona mineralità, è un vino che può essere visto dall'aperitivo fino, se vogliamo, al dolce su qualche cioccolato un po' più estremo.